L'ultima parola è astinenza, a sorpresa ve la chiese, se non ricordo male, Silvio Berlusconi prima di un evento importante, ti ricordi? Sì, noi stavamo inseguendo il Napoli da sempre, il Napoli poi attraverso Maradona, attraverso tante cose, riuscire quasi sempre a vincere e alla fine perse due partite, ci trovavamo inaspettatamente a un punto dal Napoli e si doveva giocare a Napoli la partita decisiva e Maradona mi chiese di invitarci a cena, il martedì sera noi andammo, tutti lui garantì che aveva 52-53 anni, garantì che ancora sessualmente era un uomo molto vivace e quindi gli dava questa garanzia affinché loro potessero fare una promessa di un mese di astinenza sessuale perché poi avrebbero avuto tanto tempo nella loro vita per poter soddisfare i loro istinti. Tutti d'accordo? Vedi parecchi che facevano un segno d'assenso con la testa, però io guardai Gullit, il quale si alzò in piedi e disse, credo dottore che Rud voglia dire qualche cosa, si alzò in piedi e disse, sì, io con le palle piene non riesco a correre. Grazie. Grazie.